Buonasera amici della Soul Society, benvenuti a questa serata Ripartiamo, riprendiamo con la lettura di Bleach Se state guardando questa live adesso su Youtube Sappiate che è il martedì sera e questa live ce la facciamo in diretta su Twitch E trovate i link in descrizione Ma ora iniziamo a parlare e a leggere il volume 12 Anche perché nei commenti di Youtube stamattina Mi avevano proprio chiesto Ciao Dave Mi avevano proprio chiesto Sì ciao qua Perché ero straconvinto del Come si chiama? Non mi viene mica il nome di questo personaggio qua eh raga Vabbè Grazie, grazie Pierre Aizen perché ero convinto che fosse un cattivo Mi sembrava di aver sentito da qualche parte Perché voi sapete che io sono in blind Che Aizen era un cattivo E mi hanno detto beh adesso vedrai nel volume 12 Bene è arrivato il momento di leggere Volume 12 Fiore sul precipizio Anche se credo che il titolo sia in inglese Infatti ci avevo fatto la storia oggi Se vado a vedere su Dov'è? Qua Su Instagram La storia Dai Apriti Sedano Mortacci 2 Allora Bike Perfetto Infatti La L'esatto Flower on the precipice Qua l'avevano tradotto con fiore sul precipizio Ma va bene lo stesso Qua chi l'ha fatto l'ha voluto tradurre Tra l'altro mettendo anche Allineando male i font Va bene Allora Sì sì i titoli sono tutti in inglese Superjoy Il motivo per cui pensiamo Che i fiori sul precipizio siano belli E' perché anche noi stiamo sul precipizio Non avere paura Perché siamo come i fiori Non siamo caduti Bello Bello E' molto Molto Giapponese Molto Nipponica Come Come filosofia Sì lo so Bravo Superjoy Vedi Mi stavo già dimenticando della cuffia Perché poi mi parlo e mi urlo nelle orecchie Bravo Appoggiamo qua il cielo Ok Perfetto Vabbè qua ci sono tutti i personaggi Ok Avevamo avuto Alla fine del volume scorso Il momento di Renje Barai Che chiede A Ichigo Di salvare Rukia E' buona Ed eccoci qua Ok E qua Collassa Brutalmente A terra Ichigo Ehi Ti senti bene Ichigo Rispondi Tenente Barai Tenente Barai Ha perso Ichigo San Che razza di super essere sei Sembra Sembra che qualcuno stia arrivando Tre persone No Quattro No forse anche cinque Se arriva troppa gente siamo nei guai Andiamo Sbrigaci e conduci Sbrigati e conducici A qualche posto deserto Sbrigati e portaci in qualche posto deserto Da qualche posto deserto Quello è Ehi Aia A Barai San Si sente male Tenente Barai Non è possibile Allora Abbasso un attimo Ok Perfetto Ci siamo Ho abbassato un po Non è possibile Persino Abarai Kun E' stato sconfitto Fai fretta e portalo su Lo so Non dovresti essere così lento Dai Muoviti Pare che qualcuno sia corso via Li inseguiamo? Mmm No Qua Ok In questo momento Salvare la vita di Abarai E' più importante Poteri guaritrici Allora voi non usate le erbe Per le guarigioni? Ma Sì Gli altri Shinigami Possono usare i loro poteri Solo quando combattono Ma noi La quarta brigata Abbiamo poteri guaritrici Poteri guaritori Perché il potere è maschile E Anche se È la sola abilità Che conosciamo Ah Capisco A proposito Com'è la sua condizione Ichigo? Mmm Non molto buona Però lo guarirò di sicuro Per favore Dammi ancora del tempo Mi servirà Solo una notte E lo guarirò completamente Com'è possibile? Quando l'ho trovato Era già così Se lo avrei trovato prima Mi sanguinano gli occhi Mi stanno sanguinando gli occhi Se lo avrei trovato prima Ma rimmaladra Una consecuzio temporum Cazzo Se lo avessi trovato prima Avrei potuto unire Il mio combattimento Ah Va bene Questo No non va bene Un cazzo Ma ha messo Un congiuntivo Incondizionale Se lo avrei Non ho parole Non ho parole Non ho Pa Role L'ho già detto Non ho parole Non ho parole Che 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 imbecilli Comunque Vedi di contattare la quarta brigata E richiedi l'aiuto dei superiori Non Ma rimmaladra Ma rimmaladra Ma rimmaladra Non c'è Ne sarà bisogno Se non bestemmio Guarda Ma anche che Ma anche che Chi l'ha scritto È ignorante Mettetelo in carcere Capitano Cucichi No Abarai Kuna Ha affrontato Con un F Ma almeno La quinta elementare Questo ce l'aveva Chi ha scritto Sta roba Ma la quinta elementare Abarai Kuna Ha affrontato Gli intrusi da solo E sa Non voglio scuse Sì Esatto Superjoy Visto che Combatteva da solo Non ci dovrebbe essere Alcun motivo Per cui avrebbe dovuto Perdere Non mi serve un idiota Che non riesce Nemmeno a capire questo Ci sta solo Intralciando Per favore Per fav... Ah no Per favore Per favore Aspetti Come può dire Una cosa del genere Non si preoccupi Eh Cupi Che cazzo è Un... Vabbè Ma Chiracoon Sono molto spiacente Io Sono Molto Spiacente Sì 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 Gino Affrontato Ma anche Preoccupi È tipo Il verso Di un animale Di Final Fantasy Vabbè Oh Che paura Capitano Ichimaru Ha veramente Detto Quelle parole Il capitano Della sesta brigata Fa paura Come al solito Non preoccupatevi Ma chi cazzo L'ha scritto Questo capitolo Ditemelo Chi cazzo Ha fatto Il lettering Ma non è possibile Ma non è possibile Ma chi cazzo L'ha fatto Il lettering Anche gli errori Di battitura Capi Escono Come i funghi Posso aiutarvi A contattare La quarta brigata Vieni con me Chira Sì È Così spiacente Di averla disturbata Come avrà fatto A prenderle così bene A prendersele così bene Ah Eh ciao Itsugaya-kun Ehi ehi Sono già un capitano Non dovresti parlarmi In quel modo Zitto Basta così Come mai Tutti voi capitani Non fate alcun suono Mentre camminate A proposito Tsugaya-kun Perché sei qui E non hai portato Il tuo tenente Sono qui Per darti Un consiglio Devi stare attento Alla terz brigata Alla famosissima Terz brigata Brigata sicuramente tedesca La terz Guida La terz brigata Eh La terza brigata Vuoi dire Chira-kun Perché Sto parlando di Chimaru Ma stai attento Anche a Chira In ogni modo Non ti farà male Se tieni un occhio Su di loro Specialmente Adesso Durante Un'emergenza Le tredici brigate Sono già a corto Di un tenente Questa non è l'ora Di dare Le missioni Di Shinigami Di grado Ai Shinigami Di grado Mino Non ho parole Di dare le missioni Con una S sola Ai Shinigami I famosi Ipneumatici I zii I zoppi Cioè Sembra veramente Di guardare una roba Tipo Cioè come noi A Modena Che lo gnocco Che sappiamo perfettamente Che in lingua italiana Si dice lo gnocco Però A Modena È dialettale E lo chiamiamo Il gnocco Con il Non con lo Ecco qua mi sembra Di avere davanti Una roba del genere Solo che Chi ha fatto Tutta sta roba Probabilmente L'italiano Non l'ha ancora imparato Perché fa Il terzo anno D'asilo Perché le missioni Con una S sola Ai Shinigami Cioè Maremma ladra Ciao Modena Maremma ladra Ma è possibile E non farò più domande Sul Perché Sul perché Non su perché Sul perché Ichimaru Agito da solo Prima Ah Grazie Tutti gli ufficiali Superiori Inclusi i tenenti Devono avere Sempre Le loro zanpacto E non vi è permesso Di combattere Con tutte le forze Che avete Per favore Informate E coloro Che non sono Venuti A questo incontro Tutti Presto È possibile Che cominci Una guerra Su vasta scala E vediamo Sta scena Bruttissima Ma va bene Lo stesso Speriamo Mettendo contro Renji Ichi Ichigo san Grazie Grazie Sto bene Cosa stai Dicendo Non ti puoi Ancora alzare Non ti puoi Alzare Ancora Devo Ichigo san Ichi Ganju san Come puoi stare bene Se un pugno Come quello Ti ha messo Al tappeto Rimani giù Come un bravo ragazzo Finchè le tue ferite Non saranno Guarite Oh Un'altra Lesione Ganju sei troppo Violento Zitto Almeno l'ho Fermato Hai un problema Con il mio modo Di fare le cose Comunque È difficile Da credere Che la ferita Sulla parte Sinistra Del torace Sia così Superficiale Pensavo Che sarebbe Stata una ferita Fatale Fu quella Maschera Nascosta Nei suoi vestiti Che lo salvò Cosa sarà Quella maschera Ha fermato il taglio Del luogotenente Adesso è un luogotenente Ha fermato il taglio Del tenente Abarai Di cosa è fatta? No Più importante Perché quella maschera Assomiglia tanto A quella di un ollo Ichigo-san Spiega Il trattamento medico Sul tenente Abarai È completo Per favore Apri la porta Istruzioni speciali Di guerra Istruzioni speciali Di guerra A tutti gli Shinigami Di seggio È permesso Da adesso Portare il loro Zampacuto In città Inoltre Il divieto Sull'uso Della piena potenza È alzato Questo Il divieto Sull'uso Della piena potenza È alzato Che cazzo Vuol dire? Il divieto Sull'uso Della piena potenza È stato annullato Una roba Del genere Questo è un ordine Diretto del capitano Della prima Delle 13 brigate Gary Usai Yamamoto Sama Il nemico È riuscito A sconfiggere Il tenente Abarai Che poco Che una pagina prima Era Il lo strafotto Due pagine prima Era lo strafottissimo Luogo tenente Abarai E non si sa Dove potrebbe colpire In seguito E non si sa Dove potrebbe colpire Di nuovo Per favore Stia molto attenta Tenente Hinamori Eh va bene Mamma mia Che lofiaggine Fiaggine Ordine speciale Possiamo portare Le nostre armi Abarai Come è finito In quel modo Ma non è meglio Se non portiamo Le nostre armi E manteniamo la pace Stai attenta Alla terza brigata In special modo Capitano Aizen Io Davvero Davvero Non voglio combattere Contro nessuno Sì Ti serve qualcosa Hinamori-kun Non era Hinamori È Hinomori Le hanno sbagliate Di nuovo Hinamori qua E Hinomori qua Madonna Ma è possibile Ma è possibile Vabbè Mi scusi Posso parlarne un attimo Io Io so di disturbarla Che disturbarla Io Io so che disturbarla A quest'ora Non è cortese Ma Ok Grazie Superjoy Adesso comunque Vado a controllare Anzi Vado a controllare Subito Qua Color Volume È il 12 Qua ентов Presidente Aizentoico Qua Hinamori Grazie Grazie Superjoy Qua Torniamo Qua Qua Ma non posso dormire, faccio sempre delle brutte figure davanti al capitano. Ma, per favore, pensavi che ti avrei scartata per una cosa del genere? E questa è l'impressione che do di me agli altri durante il giorno? È una traduzione fatta da un team che faceva scando ent'anni fa. Non è quello ufficiale, no. Perché se prendo quello ufficiale mi vengono a prendere sotto casa. Detta proprio come va detta. Entra, hai avuto una giornata dura. Puoi stare quanto... Puoi stare quanto a lungo vuoi. Puoi stare quanto vuoi. Quanto a lungo vuoi. Quanto vuoi. Ho sentito che Barai Kun sta bene. Davvero, è un sollievo. Il capitano Cucicchi voleva degradarlo, ma gli altri si sono opposti. Quindi, quando sarà guarito, potrà tornare alla sua posizione. Era lei quello che difendeva Barai, capitano Aizen? Non ero il solo. Ha talento e piace a tutti. Nessuno sarà contento se verrà degradato. Eh, già. Le parole del capitano Aizen. La sua voce. Tutto ciò che riguarda il capitano... Che riguarda il capitano... Calma il mio animo, ero inquieto. Sono così contenta di essere venuta. Sono così fortunata di avere lei come superiore. Capitano Aizen. E questa s'addormenta. Aizen esce. Allora... Mi scusi, mi sono addormentata. Eh? Capitano Aizen? Se n'è andato. Oh no! È già così tardi! Il capitano probabilmente si è alzato presto, ma... Perché non mi ha svegliato? Spero che arrivi in tempo per l'incontro. Prenderò una scorciatoia, sì. Penso che ce la farò. Cos'è stato? Si è sentito dalla direzione... Del Daisho... Del Daisho Heki di Est. Del Daisho Heki a Est? Questa è la voce di Innamori. Alt, alt, alt. Questa la devo vedere da lingua originale. Perché non si capisce un cazzo in questa battuta. L'urlo è qua. Igashi Daisho Heki. Ok. Tipo il... Il grande muro sacro a Est. Una roba del genere. Ok. Cos'è successo, Innamori-kun? Cosa? Così! Senza senso! Piantato contro il muro... Così! Eh? Capitano Aizen? Non capisco. Non comprendo. Capitano Aizen! Capitano Aizen! No, no, non è vero! Capitano Aizen! Capitano Aizen! Cosa sta succedendo? Chi è che sta gridando così presto? Sta attenta! Sta attenta alla terza compagnia! Alla terza brigata! Non alla terza compagnia! In special modo... Quando Aizen cammina da solo durante la notte... Sei stato tu! Ah! Tic! Chi racconta? Perché? Sono il tenente della terza brigata! Non mi importa quale sia il tuo motivo! Non posso permettere che tu minacci il mio capitano! Per favore, muoviti, Kira! Non posso! Spostati, muoviti! Non posso! Quale parte di muoviti non capisci? Quale parte di non posso non capisci? Scoppia, Tobi Ume! Cosa? Adesso è scoppia? Non è ti chiamo? Ah no, è scoppia Tobi Ume! Alta! Vediamolo in lingua originale! Tac! Volume 12! Tac! L'esplosione è qua, quindi è qua! Agiche! Sì! Esplodi! Esplodi, Tobi Ume! Prugna volante! Va bene! Esplodi! Prugna volante! Cosa? Bam! Come osi usare la Zampacto in quel modo! Che cosa è imperdonabile! Pensa a quello che stai facendo in questo momento! Non immischiare sentimenti con affari ufficiali, tenente Kinamori! Se insisti, non ho altra scelta che trattarti da nemico! Alza il tuo volto, Wabisuke! Tuk! Non muovetevi! Bello! È entrato il mio cattivo! Proprio uno bloccato con il coso e con il gheta e l'altro con il fodero! Mamma mia che figata di parata! Ah, che bella parata! Itsugaya-kun! Immobilizzateli tutti e due! Riferirò a questo al comandante! Portateli via e rinchiudeteli! Le mie scuse, capitano della decima brigata! Il mio uomo ti è causato dei guai! Ichimaru! Avevi intenzione di uccidere anche Kinamori? Kinamori? Eh? Cosa vuoi dire? Ti sto avvertendo! Se fai cadere anche solo una goccia del sangue di Kinamori, ti uccido! Mannaggia! Che cosa spaventosa da dire! Se pensi quello che... Se pensi quello, dovresti fare attenzione a non lasciare che sì... Che i cattivi le si avvicinino! Perchè diavolo stai dormendo sulla mia gamba? Hai sbarvezzato sul mio unico set di vestiti! Ah, è troppo stanco! Un po' di saliva, poi non è un gran che! Ichigo? Stai bene? Sì, grazie ad Anatarou! Anche tu dovresti essere guarito! Anatarou si è curato anche di te dopo che aveva finito con me! Questa volta ce la dobbiamo fare! Andiamo al Senzaikyu! Ah! Ah! E si prepara al Senzaikyu uno scontro come si deve! Ah! Sado! Chado! Chad! No, è Sado! Sei abbastanza alto! E indossi l'uniforme della mia scuola! Come mai? Non ti ho mai visto prima d'ora! Mi sono appena trasferito dalla scuola media di Amashiba! Oggi? Sono nella classe 2F! Cavolo! Sei nella mia classe! Ah! Comunque! Beh, grazie per il tuo aiuto! Eh? Sei in grado di stare in piedi? Sì! Sì! Sono ok! Sicuro? Sei stato picchiato abbastanza forte! Stai ancora sanguinando! Nah! Se non avessero usato quella pietra avrei vinto facilmente! Ma erano degli studenti del terzo anno! Cos'è che avevi fatto loro? Ma niente! Allora non piacevano i miei capelli arancioni! A loro non piacciono i tizi che si mettono in evidenza! Quello è il solo motivo che gli serve! Credo che tu sia come me! Eh? Nah! Niente! Dicevo solo che anche tu ti distingui come me! Ok! Andiamocene di qua, Chad! Sado! E poi... Le tue gambe stanno ancora tremando! Non ti piace, Chad? Io invece credo che suoni benissimo! Come Dominic Chad! Chi è? Non lo sai? E Chad Smith? No! Devi almeno conoscere Eugene Chad! E chi diavolo è? Eh? Un sogno? Ho avuto un sogno sul passato! Ma... Adesso mi sento strano! Qualcuno di là? No! Proviamo questo magazzino! Squadra numero due! Andate sul retro! Per fortuna mi sono alzato presto! Se mi fossi svegliato per questo suono disturbante da busso! Se mi fossi svegliato per questo suono disturbante da busso! Mare maladra! Se mi fossi svegliato per questo suono! Per questo bussare insistente! Per questo bussare così insistente! Probabilmente sarei stato di malumore per tutto il giorno! Beh probabilmente saresti stato morto per tutto il giorno! Bello i zugai è così! Che diavolo è quello? Ah! Questa pillola è fatta per tenere i membri della quarta brigata in grado di lavorare anche quando sono troppo stanchi! Davvero? Ha un teschio come marchio? È uno scherzo per caso! Se ne prendo una la mia resistenza sarà miracolosamente rifornita! Venite! Andiamo! Aspetta un minuto! Cosa c'è? Cosa pensi ci sia? Sei sicuro che quella roba abbia funzionato? Ma... A me non pare! Ah di cosa state parlando? Non vi sembro completamente rienergizzato? Nah per niente! Credo che ti abbiano fregato! Oh bene! Non c'è nessuno qui! Quindi c'è stato un combattimento proprio ieri! E non hanno assegnato nessuno per fare da guardia! Strano! Forse pensano che il nemico non passerà due volte per lo stesso luogo! Forse! Ehi! Cosa pensi che stiano facendo gli altri? Quelli con gli occhiali vestiti di bianco! E uno! E quello con gli occhiali vestiti di bianco! E quella pollastrella con i capelli marroni! Pollastrella! Questa non l'avevo ancora sentito... Non la sentivo da un po' Stai parlando di Shida Enoe? Tutte e due sono cento volte più intelligenti di me! E ci vuole poco! Eviteranno qualsiasi combattimento che non sono sicuri di vincere! Non c'è motivo di preoccuparsene! Staranno bene! L'altro tizio... Chad... No, te ne devi preoccupare ancora di meno! Cosa? Non sappiamo nemmeno se è ancora vivo! Certo che lo è! Lo posso sentire! La sua pressione spirituale l'ho sentita da quando siamo atterrati in un città! E poi... È completamente inimmaginabile che Chad possa perdere qua! Che Chad possa perdere! È completamente inimmaginabile che Chad possa perdere contro chiunque! Madonna che traduzione di merda! Che tu sia dannato, mostro! Dov'è il Senzaikyo? Senzaikyo? Ho chiesto al tizio prima! Di prima... Dov'era Kuchikirukia? Ed è tutto quello che disse prima di perdere conoscenza! Non so come arrivarci, quindi... Fa male! È quella torre bianca di là! La vedi? Quello è il Senzaikyo! Capisco! Grazie! Prego! Prego! Voltare le spalle al nemico! Che sciocco! Crepa! Tuk! Mi dispiace! Mi dispiace! Non mi uccidere! Ehi! Non attaccarmi di nuovo! Eh? Va bene! Non mi ucciderai? Sta arrivando un intruso! Eh? Che palle! Già qui? Ah, vabbè! Facciamola! Facciamola finita con una C sola! Facciamola! Lo combatterà lei stesso? È solo un Rioca! Posso farlo io? È un ordine diretto del vecchio Yama! Non posso farci niente! Non vuole che i Rioca ci diano più dei problemi! Il vecchio vuole che il problema venga eliminato subito! Se lasciassi combattere la mia Nanao e lei venisse ferita, allora io cosa farei? Mi scusi, ma cosa c'entra la mia Nanao? Ah! Sei più crudele del solito oggi! È quello che mi piace lì! Ho capito! Ho capito! Adesso basta! Vada! Va bene! Va bene! Non c'è motivo di preoccuparsene! Finirà presto! Alla fine questo è solo un piccolo spettacolo! Dannazione! Queste scale sono troppo lunghe! Quanto è alta sta cosa? Ma smettila di piagnucolare! Siamo quasi arrivati! Già! Ce l'abbiamo fatta! Non c'è nessuno neanche qui! Non ci sono guardie! Nessun luogo! Bene! Entreremo diritto lì! Eh! 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 Cosa? Da dove diavolo... Da dove diavolo viene questa pressione spirituale? Cosa diavolo è questo? Il carcere speciale di prima classe della quinta brigata Rangiku-san! Cosa stai? Questo è stato trovato nella camera del capitano Aizen È per te Del capitano Aizen? Per me? A quell'ora Per fortuna è stato trovato dal mio capitano Altrimenti sarebbe stato ritirato come prova E non avresti potuto nemmeno dare Darci un'occhiata Non so cosa ci sia dentro ma Come tenente credo che sia un grande onore Ricevere le ultime parole Del tuo capitano Leggilo bene Ciao Asrur Una traduzione di merda È un lettering fatto ancora peggio Ecco cosa ti sei perso La mia sclerata totale ha inizio live Grazie Inamori Se stai leggendo questi allora io Probabilmente sono in un altro mondo dal quale non posso ritornare Mi dispiace per tutta l'ansia e il dolore che ti ho causato Veramente Non posso sottolinearlo abbastanza Capitano Aizen Esitavo a parlarti della ragione Per cui ero tanto nervoso Nooo È che Sembra piccolo Però io ce l'ho su uno schermo 4K E si legge bene Eh già Esitavo a parlarti della ragione per cui ero tanto nervoso Spero che tu possa capire che la ragione Per cui l'ho nascosta Era che non volevo coinvolgerti Spero che tu mi possa perdonare Siccome ti coinvolgerò comunque Sento che il mio tempo si avvicina Quindi Per mostrare la mia fede in te Ti dirò tutti i fatti di questa cospirazione che ho scoperto Questo Che diavolo Chi è che sta generando quest'aura ridicolamente Ridicolosamente alta Ridicolmente alta Ridicolosamente Ridicolmente alta Dannazione Corri Non riesco a capire esattamente cosa sta succedendo Ma sono sicuro che qualcuno molto forte è vicino Petalosamente Pier Prima che ci trovino Corriamo più che possiamo Ok Sono arrivati Sono finalmente arrivati Quindi Qual era Questo è troppo strano Stiamo correndo Già da un pezzo Ma mi sento vicino alla sorgente Della mia pressione Mi sento come se tenesse una spada puntata alla mia gola Cosa stai facendo Cosa stai facendo Scusi Non ho più forza Sei veramente Sei veramente Non sei veramente Sei veramente un tizio seccante Eh Non lui Neanche lui Sei tu Bella la presentazione Che impaci Zarachi Cos'hai Non stare lì a guardare Eh Eh Ah gli è comparso dietro E Pah Che figo Cioè qua è veramente Tipo Aki E guarda Adesso ti faccio sentire come ti Come ti Come ti secco Trick T'è piaciuto Bene non è successo Ah 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 Cos'è stato quello Illusioni della sua volontà omicida Ma 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 era così reale Sei tu Kurosakichiko Eh Come fai a sapere il mio nome Chi sei Oh Ikako non ti ha raccontato di me È forte Lo saprai quando lo incontrerai Supponendo che tu sia ancora vivo Quando lo farai Come si chiama Io sono il capitano dell'undicesima brigata Zaraki Kempachi Sono venuto qui Per ucciderti Belli campanellini Sui capelli Ah Bello L'inuccidibile Che titolo di merda Che titolo di merda L'inuccidibile L'inammazzabile Kempachi Zaraki Il capitano dell'undicesima brigata Sì Pier Purtroppo sì No Erano Sasuke E Il Esai Quello che prende il posto di Sasuke Nella Nell'arma Nel Nel team set E Fammi vedere Mi avete fatto venire un dubbio Superjoy Qua Temetou Coroshiai Nikita Sono venuto per ammazzarti maledetto Non dice sono venuto per ammazzarti O essere ammazzato No qua c'è la presentazione No no non lo dice Sono venuto qui per ucciderti No va bene Andava bene Per una volta che mettono una traduzione come si deve Una piccola curiosità Ok Azror ti leggo Oltre all'uso pratico I campanelli di Kenpachi Hanno anche lo scopo di evocare Similitudini con il Gashadokuro Uno yokai con la quale Kenpachi condivide alcune somiglianze E che nelle leggende Si dice faccia rumore simile Quando si muove Ok Grazie mille Azror Grazie mille Non c'è da sorprendersi Che abbia una pressione spirituale così grande Questo tizio sembra completamente diverso Da qualsiasi altra persona abbia incontrato Allora Ti ho detto che sono qui per ucciderti Non hai risposto Vuol dire che sei pronto per cominciare? Anataro 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 Ganju Non essere stupido Ichigo Anataro ed io siamo solo un po' storditi dalla pressione Staremo bene Ah Smettila di preoccuparti per noi E guarda davanti a te Se non lo fai sarai battuto in un istante Ganju Oh Sta sbavando Eh Ah Ken-chan L'ha spaventato sul serio Poverino Maledizione Si è arrabbiato Scema È colpa tua Ganju Porta Anataro via da qui Cercherò di fermare questo tizio Tu vai a salvare Rukia Ma da sola Da solo Sta zitto Vai Va bene allora Questa è una sorpresa Nessuno di voi li sta seguendo Fermarci non è il vostro obiettivo Per l'ultima volta Sono qui per combattere contro di te Non me ne frega un cazzo di tuoi amici o di cucichi Possono morire dove vogliono Per quanto mi riguarda Molto bene Sbruffone Bravo Pier Non dire niente La pressione spirituale è stranamente alta oggi La posso sentire anche solo Anche se sono dentro queste mura secchi secchi È venuto uno dei capitani A giudicare da questo e dall'esplosione di ieri La città è sotto attacco Ciao Riki Ichigo è veramente qui Mi chiedo dove siano adesso Niente male La tua posizione sembra buona Ci sono molte aperture Con due P Perché è un'apertura di flanella Ma la pressione spirituale è buona I nostri tenenti Non sono la tua altezza Sì purtroppo l'ho letto Pier Sono impari Purtroppo Non c'è da sorprendersi Se il cacco ha perso Ah grazie Anche se sei molto più debole di me Che ne dici di questo? Ti darò una possibilità? Taglimi dove vuoi E non trattenerti Cosa? Che cavolo stai dicendo? Non ho intenzione di attaccare qualcuno disarmato Pensi sia scemo? No Non credo che tu sia scemo Queste sono un handicap Carità È bello da parte tua Non voler attaccare una persona disarmata Ma dovresti tenere queste cavolate per qualcun altro Non essere così rigido Goditi il divertimento Grazie Grazie per i 19 mesi col Prime Vecchio cuore Uccidere Ed essere uccisi Sono solo modi di passare il tempo Vieni Collo Stomaco Occhio Qualsiasi cosa Sarà pure meglio se mi uccidi con un colpo solo Di cosa hai paura? Dai Vieni Merda Sei stato tu a volerlo Sei sveglia la taro? Sì Ganju-san Che cosa c'è? Dov'è Ichigo-san? È rimasto dietro Dietro? Da solo? Non è possibile Dobbiamo tornare No Non voglio Voglio tornare ma Non è che possiamo veramente far qualcosa Non può vincere Non importa quanto sia forte Ichigo Non può vincere Eh? Quell'uomo è il capitano dell'undicesima brigata Kempachi Zarachi Kempachi è il soprannome dato all'uomo Nel Gotai 13 Che ha ucciso più uomini E vinto più battaglie Il nome significa Non importa quante volte lo tagli Lui non cadrà Figo Cioè Gli è entrato con la spada in faccia No Sul petto Peccato Era figa l'idea che gli fosse piantato È impossibile Non è per niente ferito Eh? Cosa? Che delusione Che delusione Sarà che sei un trumone Delusione con duelle Il grandissimo delusione Hai presente quando il Nen di Sokka Che è così forte Che Gona e Killua Non riescono ad entrare nel piano? Esatto Con la Reatsu È lo stesso in questa scena Crea la pressione Perfetto Grazie mille Adesso è il mio turno Per cortesia Non morire troppo in fretta Bello Bello Che impaci Lasciami andare Se non lo aiutiamo Ichigo-san morirà Stupido Anche se tornassimo Cosa mai potremmo fare Per aiutarlo? Sia tu che io Siamo Siamo Saremo di nuovo storditi Dall'aura di Kenpachi Come possiamo aiutarli Se siamo storditi? Il solo che può farlo È Ichigo Per quanto mi dispiace Ammetterlo Gli saremo soltanto Diltralcio Quindi Dobbiamo continuare Ad andare avanti Ichigo Lavoro per cui è pronto È pronto a buttare via La sua vita Quindi dobbiamo far Tutto quello che ci è possibile Per salvarla Se perdiamo tempo qui Allora il sacrificio di Ichigo Diventa nullo Allora andiamo Allora andiamo Ok ok Ichigo Dopo che avremo preso Cucichi Torneremo per te Anche se non posso aiutarti a vincere Sono sicuro che posso farti scappare Allora Non morire prima del nostro ritorno Again Impossibile Ho usato tutta la mia forza Per quell'attacco Attacco Ma perché non c'è nemmeno un graffio? E invece Le mie mani sono state ferite Sembri sorpreso È così difficile da credere Il fatto che La tua spada Non può neanche graffiarmi Non c'è speranza Ichigo La spada di Ichigo Non farà niente a Kenchan Perché una spada del genere È come una spada senza lama Per Kenchan Cosa? Lascia che ti dica Perché la tua spada Non può neanche graffiarmi In effetti è abbastanza semplice Quando due enti spirituali Si colpiscono La parte con Laura minore Sarà ferita Tutti qui? Tutti qui In altre parole Paragonata alla tua spada Che è densamente Concentrata Con lo scopo di uccidere La pressione spirituale Che io rilascio Senza volere È molto 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 Più grossa Semplice no? Non riesco a crederci Che sono stato qui Tutta la notte Per questo È così triste Che non è neanche divertente Almeno Cerca di piegare Questa spada Almeno un po' Per favore Intruso All'inizio Risausto Dopo averlo usato Due volte Ma adesso Non sudo neanche Dopo 5 minuti Dovrò ringraziare Yoruichi-san Quando lo rivedrò Yoruichi-san Inoue Ishida Ichigo Staranno bene Sì sì L'ho notata Che era tutta Smussata Che è segnata Tipo dagli scontri Con altre catane Staranno bene Sperano che nessuno Si essa fatto male Fermati Questa è la fine Per te Sciocco Intruso Perché io Il terzo ufficiale Dell'ottava brigata Tatsuhusa Enjoji Sono qui Hai scelto Il sentiero Sbagliato Folle vagabondo Dal momento In cui sono stato Posizionato qui Questo sentiero È diventato Chiuso Per voi Belle treccine Sbagliato Sbagliato Cosa c'è Spaventato È ok Siccome questa mia Grande tecnica Non ha mai perso Contro nessuno Vagabondo Vagabondo Dov'è vagabondo Vagabondo Che sono io Vagabondo Che non sono altro Anche Scusa C'erano troppe Aperture Ha perso Proprio niente male Sono Shunsui Chioraku Capitano dell'ottava brigata Piacere di conoscerti Capitano dell'ottava brigata Piacere di conoscerti Ehi Nanau-chan Puoi smettere di buttare i pettari addosso? Mi senti Nanau-chan? Ehi puoi fermarti adesso? Nanau-chan La mia molto carina Nanau-chan Bellissima Bellissima Nanau-chan Mi dispiace Ma non ho tempo per giocare Per favore si faccia da parte Non dire così Cosa c'è di sbagliato Nello stare qui con me? Voi gente siete davvero stoici Eh oh fretta Per favore si muova Lei non sembra cattivo Quindi Se è possibile Preferisco non combattere contro di lei Che problema c'è? Nessuno di noi vuole combattere Però io non ti posso far passare Vorrei per favore Vorresti per favore tornare indietro? Non posso farlo Oh Allora non posso farci niente Bevi amico mio Cosa? Se non vuoi tornare indietro Almeno resta qui un po' con me Solo per un po' Tutti gli altri capitani Hanno già fatto le loro mosse Questa battaglia finirà presto Fino ad allora Resta qui per favore E bevi più che puoi Gli altri capitani? Ichigo e gli altri Sono attaccati da capitani? Mi sembra di aver detto troppo La situazione è cambiata Chiora Kusan per favore Si muove immediatamente E se rifiutassi? Non ne avrai la possibilità! Tac Ma che palle Sembra che le cose stiano diventando brutte qui Mancato Mancato E ancora mancato Ancora mancato Come fa a schivarli? No carabiniere Carabiniere Ha bloccato il primo colpo Poi ha schivato il secondo Ha schivato gli altri Neanche un colpo Neanche un colpo accasato Dei danni Non è stato preso Da alcun colpo L'altro aveva detto Che era l'assistente Di un tenente Allora lui È solo Due livelli sotto Il capitano Perché la differenza è così grande Soltanto con due livelli I capitani sono davvero così potenti Al di sopra degli altri Suggerisco che ti dia per vinto Sai Sei abbastanza bravo Rapido e forte Sei molto bravo per un umano Comunque non puoi colpirmi E allora Niente di tutto questo conta Il risultato è ovvio Se continuiamo così Suggerisco che ti dia per vinto E torni indietro Eh grazie per il consiglio Ma non posso accettarlo Eh? Te l'ho detto Rinuncia Sai Normalmente Uno non può usare Attacchi spirituali Una volta che ha usato La sua energia La sua riserva di energia Ma se ci mette la vita Sarebbe ancora in grado di farlo Tu stai chiaramente Facendo quello Eh? Inoltre sei passato Oltre il tuo limite Io non ho niente contro di te Quindi torna indietro Se continui morirai Che rottura Perché sei così insistente? Cosa vuoi? Perché sei venuto La sua society Siamo venuti per salvare Cucicchi Rukia Salvare Rukia Chan? Lei sarebbe andata Soltanto da primavera L'intervallo è troppo corto L'amicizia Non è abbastanza forte Non dovresti avere Alcuna ragione Per dare la tua vita Per lei È vero Non so molto di lei Potrei non conoscerla Abbastanza Per dare la mia vita Per salvarla Ma Ichigo Vuole Salvarla Ichigo ha dato Tutto per lei E quello è abbastanza Quello è tutto ciò Che mi serve Per rischiare La mia vita Per qualsiasi cosa Ma Sei veramente Una rottura di palle Visto che sei così determinato È stato scortese Cercare di dissuaderti Ti chiedo scusa Per quello Ma Molto bene Allora Allora non ho altra scelta Che toglierti la vita Egli hai passato Sembra quasi Gli sia passato alle spalle No hai la spalla Ah Ichigo Ultimo capitolo Di questo volume Andato Di Stracorsa Ah Ichigo Io lo sconfiggerò Che mi costi la vita Comunque se sopravvivo Faccio una promessa La stessa promessa Di quella volta Sulla stessa cosa Perché non hai reagito Chad È Sado Sì Sono d'accordo Joy Pazienza Sei stato fortunato Che ero in giro Altrimenti Saresti morto dolorosamente Sembra una persona dura Perché Sei rimasto lì A prendertele Perché avevo fatto Una promessa Non lotterò più Per me stesso Ho fatto quella promessa Al mio abuelo Abuche Abuelo Vuol dire nono Anche decimo Undicesimo Dodicesimo La n Non si paga Stronzo Il suo nome Era Oscar Joaquin Della Rosa Di dove era? Mestisso Era del Messico Un mestisso Una persona Della ricerca Ok Sono vissuto Ho vissuto in Messico Prima di venire qua Ma l'ultima volta Mi hai detto Che eri di Okinawa Davvero? Ehm Sì Dici sempre Quello che ti viene in mente Smettila O non me ne curerò Più di te A proposito Porti sempre quella cosa Intorno al collo È importante? Molto importante Forse più importante Della mia vita Eh? Davvero? Eh è vero È una moneta O qualcosa del genere? Quella cosa Da dove proviene? Messico Sarà Sarà Andiamo Due ragazzi che parlano Sul fiam Eh Sulle sponde del fiumo Sprecano solo il loro tempo Eh? Cos'è quello sulla tua schiena? Un cellulare? Beh Di chi è? Mmm Forse di quella gente Eh Adesso provo a A darlo Adesso devo darlo indietro La spazzatura dovrebbe essere buttata via Eh? Oii Non stavo mentendo Sono stato a Okinawa Poi mi sono trasferito in Messico Tutto qui I miei genitori sono morti da giovani E non avevo altri familiari Quindi fui preso dal mio nonno in Messico Avevo otto anni Ero veramente un ribelle Usavo la mia altezza per intimidire chiunque non mi piacesse Il nonno mi sgridava per quello Grazie al nonno sono cambiato Gli sono eternamente grato per i suoi insegnamenti Davvero Ero troppo ribelle Allora E Ero veramente poco attento quel giorno Wow Cosa mi è successo oggi? Anche le scimmie sanno che camminare da sole è pericoloso Il filo elettrico sembra forte Probabilmente non posso liberarmi Ah Sado della scuola media Mashiba Come ti senti? Così doloroso da pisciarne in pantaloni? Pisciarne in pantaloni solo per il dolore? Non credo che sia così male all'oncora Scusa Eh? È così Allora che ne dici di questo amico? Eh? So tutto su questo È più importante della tua misera vita, vero? Un ricordo importante dal Messico, eh? E se lo distruggo che farai? Vai al diavolo, scemo Bam Ah, 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 ah Yoku-chin Yoku-chin? Dannazione Quante volte te lo devo dire che non devi chiamarmi così? Quello Tu sei Grazie Kurosaki Ichigo della scuola media Mashiba Ehi, stiamo parlando con te E togli le mani dalle tasche di Yoku-chin Ichigo? Ah Trovato Potete mandare un'ambulanza? Ha detto ambulanza Ti stai già preoccupando per la salute di Sado? Hai dimenticato che noi siamo qui per farti a pezzi? Siamo sotto il fiume Nosegawa A coscitoria Per favore mandate Uno, due, tre, quattro, cinque Cinque ambulanze Sbruffone Ok, facciamolo Chad Tu continua a fare la tua cosa e non combattere per te stesso Ma combatti per me E io combatterò per te Se ci vetti la vita per proteggere qualcosa Allora anch'io Ce la metterò Prometti Prometto È così Abbiamo fatto una promessa Quindi Io non posso perdere Truc Mi dispiace Allora Traduzione di Chiracoon Va bene Clean in the typesetting di Wanderweiss Wanderweiss cambia mestiere Perché non ne sei in grado Ok Direi che Questo Torniamo un attimo Tutto 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 Qua E E fu così che Chad Perse tutta la sua certitudine Contro l'uomo più bansueto Del Gotai 13 E a quanto pare Che dire Che dire Al di là della traduzione Imbarazzante Perché è veramente imbarazzante Fatemi dare un'occhiata A vedere se anche le prossime Sono di quest'uomo imbarazzo No Ok Il prossimo volume Non è di quest'uomo imbarazzo No Sto guardando i credit Oh La Allora Allora Che dire Bel volume Volume rapido Molto veloce E Eh ma infatti Sono stra curioso Di vedere i prossimi capitoli Io oramai Questo oramai È la mia lettura Del Martedì sera Quindi Io non mi metto Ad andare avanti Su E Il prosieguo Della storia Sono curioso Non ho mai letto Bleach Mi sta piacendo un sacco E Al di là della traduzione Orribile Però comunque E Gli avevo dato Non gli avevo dato Grandi possibilità All'epoca Devo dire che Dovevo dargliela Detto questo ragazzi Io Con questa Vi saluto Vado a letto Che domattina La sveglia suona Alle 4 del mattino Vi ringrazio per Avermi fatto compagnia In questa lettura E vi aspetto Domani Domani sera Qui su Su Twitch Per La live spoiler Quindi Domani sera Ore 21 Qua su Twitch Del Bike & Raft Live spoiler Sul capitolo 1117 Ciao a tutti Ciao gente Ciao a tutta la chat Buonanotte Ciao belli Ciao a tutti Ciao a tutti